Dove sono? Che ci faccio qui? Che cosa sta succedendo? L'ultima volta ero nella mia stanza, avevo trovato il telefono. Ora che bisogna fare? Qualcuno può dirmi che cosa sta succedendo? Non ce la faccio più. Sta suonando il mio telefono. Chi è? Un numero sconosciuto, io il vioto. Di nuovo lo sto chiamando, ma chi è? Il vioto anche stavolta. Di nuovo, ma chi è? Forse mi conviene rispondere. No, non posso rispondere. E va bene, dai. Se richiama rispondiamo. Ecco. Che faccio? Pronto? Tu! Tu! Grazie a tutti.